Io già oggi manderò una lettera, questo pomeriggio al Governo, comunicando le intenzioni di Regione Frevidenza Giulia sulle reperture, quindi anche tutte le tipologie che devono riaprire. E dall'altro lato il Presidente del Consiglio ieri ha comunicato che entro domani devono arrivare le linee guida INAIL, che dipendono ovviamente dal livello centrale. Su questo, perché io ho fatto proprio presente che serve il tempo, penso al parrucchiere, all'estetista, di organizzarsi rispetto a queste linee guida. E quindi ho chiesto che vengano per tempo, perché altrimenti rischiamo, se arrivano troppo tardi, di fatto di non aprire, malgrado diciamo che si possa fare, ma di fatto non lo si può fare. Uno stop ancora per palestre e piscine, perché sono quei luoghi più sensibili dove... Noi come Nicola le richiesto anche di aprire le palestre e piscine, con le linee guida sempre INAIL, quindi che devono agire in sicurezza, ma penso che in questo momento sia necessario dire qual è il comportamento sicuro, se è quel comportamento sicuro individuato da INAIL, allora si può aprire, se puoi garantirlo ovviamente. Le volevo chiedere anche sulla mobilità delle persone, se cambierà qualcosa. Io credo che non c'era più necessità, insomma, di dire che devo andare a trovare il congiunto fino... o il congiunto che quindi vuol dire il parente fino all'ottavo grado, mi sembra sesto grado, che sarebbero i cugini dei miei cugini, cioè i miei figli possono andare a trovare i figli dei miei cugini, ecco. Direi che uno vede chi vuole, sempre mantenendo quel comportamento virtuoso di distanziamento sociale, di uso della mascherina, che è necessario, perché in questo momento, proprio nel comportamento che possiamo utilizzare, determinerà il successo o no delle riaperture e anche della lotta al virus. Noi dobbiamo tenere insieme le necessità sanitari con quelle economiche e lavorative, come possiamo farlo? Tenendo un comportamento rigoroso dal punto di vista dell'attenzione a evitare contatti ravvicinati. Invece gli spostamenti fra regioni, su questo che cosa possiamo dire? Su questo noi stiamo avendo un colloquio con il Veneto e penso che a breve troveremo una soluzione per quanto riguarda le persone che vivono sul confine, non le province di confine, perché sono casi in cui una parente è dalla parte e dall'altra, perché di fatto sono il medesimo territorio nella vita quotidiana. E quindi su quello io penso che troveremo in giornato, al massimo nella giornata di domani, una soluzione con Regione Veneto.